Campagna elettorale alle ultime battute anche nei piccoli comuni della provincia di Avellino. È una sfida 4 a Tufo. Ai nostri microfoni tre dei candidati alla carica di sindaco. Gerardo Bergamasco con la lista Cambiamenti per Tufo, Anna Rita Oliviero con Siamo Tufo e Fabrizio De Guglielmo con il Grappolo di Tufo. Gerardo Bergamasco, candidato sindaco della lista Cambiamenti per Tufo, intanto come nasce questa candidatura? Allora, nasce dalla volontà di un folto gruppo di giovani, di ragazzi del posto che hanno avvertito l'esigenza di rinnovare, cambiare certi modi di fare, certe logiche antiche ancora presenti a Tufo. Loro hanno individuato e me, una persona che al di là delle capacità, dell'esperienza maturata in tanti settori, poteva essere un po' super partes. Qual è la priorità del programma che intendete portare avanti per i prossimi 5 anni a Tufo? Quali sono i punti salienti? Allora, diciamo innanzitutto che Tufo in questa fase vive una fase di decrescita infelice, come noi amiamo chiamarla. È un paese dalle grosse, enormi potenzialità che però sono tutte inespresse. Il nostro impegno innanzitutto sarà nella direzione di evitare lo spopolamento, così come hanno anche altri candidati, hanno parlato di spopolamento, però sono persone che anni addietro con le loro famiglie si sono allontanati da Tufo. Da questo punto di vista, diciamo che io rappresento un po' con l'eccezione, l'unico che negli ultimi anni con la famiglia si è trasferito a Tufo. Quindi il primo punto sarà quello di evitare un ulteriore spopolamento. Poi chiaramente punteremo sull'enoturismo. Quando il turista in effetti non viene, bisognerebbe andarlo a cercare. Quindi cercheremo con accordi con tour operator, con navi da crociera e altri, per cercare di dirottare una, seppur piccola parte, di quei turisti che arrivano tra Napoli e Salerno e portarli nelle zone interne. Anna Rita Oliviero, candidata sindaco della lista Siamo Tufo. Come nasce la sua candidatura? Allora, la mia candidatura nasce dalla voglia di rifar sollevare le sorti del nostro paese. Io sono stata già assessore al contenzioso dell'ente per 5 anni, 10 anni fa, quindi del 2009-2014. Ho visto quella che poteva essere l'impegno che ci vuole, la responsabilità soprattutto che ci vuole per amministrare un paese. Sono pronta io, insieme alla mia squadra, a portare avanti questo obiettivo, portare avanti il nostro impegno, la nostra competenza, la nostra dedizione per il nostro paese. Nel programma quali le priorità per il prossimo quinquennio? Abbiamo formato un programma su tre punti, li abbiamo focalizzati tre punti del nostro programma che sono la partecipazione attiva e trasparenza, il paese fruibile e lo sviluppo economico. Abbiamo delle risorse nel nostro paese molto, molto importanti, quali il greco di Tufo e che rappresentano il punto di partenza, il punto da dove tutto deve avere origine, soprattutto tenendo conto di quello che è il nostro territorio e la vocazione del nostro territorio. Perché votare Oliviero? Votare la lista sì, amo Tufo, perché abbiamo bisogno di persone dedicate alla politica, ma non solo intesa come politica di interessi, ma una politica fatta solo di onestà, di disinteresse personale e di bene invece della collettività. Abbiamo bisogno di un voto responsabile perché noi abbiamo in noi la responsabilità e siamo consci della responsabilità che si assume nell'andare ad amministrare un paese. Sono stato costretto a scendere in campo e diciamo che è un vero gesto d'amore nei confronti del mio paese natio e dei tufesi soprattutto, che amo e voglio bene a tutti. Il problema qual è? Che negli ultimi periodi andrà sempre peggio purtroppo, non ci saranno abbondanti trasferimenti dallo Stato, quindi è necessario attivare una finanza locale capace di autogestirsi. E qui entra in gioco il greco di Tufo, famoso in tutto il mondo, un vino di eccellenza, e che però la grande industria vinicola non ha saputo sviluppare il paese, l'ha predato e a Tufo non è rimasto niente. E qui ecco l'idea dell'applicazione della legge sulle indicazioni geografiche protette attraverso le quali porteremo nelle casse del Comune 10 milioni di euro all'anno, che non sono una sciocchezza e con i quali andremo a eliminare le tasse, a eliminare le utenze e a rendere più comoda e serena la vita soprattutto dei tufesi. Voglio aggiungere ancora che di fronte a questa massa enorme di denaro saremo costretti anche ad attivare l'industria del vetro e l'indotto e quindi la creazione di centinaia di posti di lavoro, diplomati o meno, operai e tutti da formare. Inoltre ancora l'internalizzazione del greco di Tufo ci porterà a fare un circuito internazionale del prodotto, a migliorarlo e a portarlo in tutto il mondo. Quindi creeremo una sorta di paradiso effettivamente efficace, efficiente a servizio della popolazione. Grazie a tutti.